Gentili telespettatori, buona giornata. Ieri votazione del MES, Conte salvato dal Senato, ma ci sono state delle tensioni prima della votazione. Anche questa volta Giuseppe Conte e la maggioranza sono salvi. 164 voti a favore, il minimo per la maggioranza assoluta erano 161, 122 no, due astenuti. L'Aula del Senato ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulla modifica del meccanismo europeo di stabilità, ho chiamato anche salvastati il MES, un trattato internazionale che già esiste dal 2010-2011, che andrebbe modificato, però questa modifica porta uno svantaggio, un rischio terribile per il popolo italiano, per le famiglie, i risparmi, le banche e le aziende. Non è un'opinione, è una certezza. Ve lo dico semplice, se l'Italia avrà bisogno di questo fondo, perché sarà in crisi nera, questo fondo, prima di darti soldi, ti obbliga a dimezzare, a più che dimezzare il tuo debito. Per dimezzare il nostro debito bisogna chiedere i soldi e prendere i soldi in maniera coatta dai risparmi degli italiani. Quindi non è un'opinione, ma è una certezza. Ma durante la votazione sono state respinte anche le risoluzioni dell'opposizione. Nell'intervento al Senato di Matteo Salvini definisce Giuseppe Conte una copia distratta di Monti. E certo, essere definiti una copia distratta di Monti sicuramente non è un bel complimento. Proteste della Lega, dai banchi dell'opposizione, e proteste soprattutto anche, scusate, non proteste della Lega, ma proteste del Partito Democratico, dai banchi della maggioranza, e la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, è stata costretta a richiamare all'ordine i senatori che facevano schiamazzi. E Salvini aggiunge, lo dico, alla copia distratta del Presidente Monti. Noi non abbiamo progetti di far uscire l'Italia dall'euro. Vogliamo solo difendere il lavoro degli italiani. Io penso che i veri nemici dell'Europa sono gli euroottusi che ritengono che qualsiasi cosa arrivi da Bruxelles vada firmata. La salveremo noi, l'Europa. E poi cita una lista lunga di 32 professori universitari di economia, presumibilmente, che hanno definito inutile lo strumento del Messe. Non vorrei che fossero marchiati con la stella gialla, perché hanno avuto il coraggio di dire no. Sono tutti professori veri con concorsi veri. E questa è una frecciata indirizzata proprio a Giuseppi, sulla sua cattedra all'università, molto dubbia. Sono venute fuori fatture, sono venute fuori indiscrezioni da investigazioni giornalistiche che portano a supporre che l'incarico alla cattedra di Conte all'università sia avvenuta in un modo diverso dalle procedure standard. Poi Salvini risponde a qualche giornalista che ha parlato di mercato delle vacche, ma ha fatto un errore del mercato delle vacche, ne aveva parlato Luigi Di Maio dall'Albania, lì per il suo lavoro di ministro degli esteri, stizzito, aveva detto che il mercato delle vacche di Salvini, che mi vuol portare via i senatori, fermate quei senatori lì, convinceteli a rimanere. Ma non può convincere nessuno Di Maio. E Matteo Salvini ribadisce di non aver mai cambiato idea sul MES. Dice, a differenza degli ex alleati che nel programma elettorale avevano scritto il Movimento 5 Stelle si impegnerà allo smantellamento del MES. E dice, io non ho cambiato idea, viva la coerenza e viva l'Italia. Perché Di Maio, 48 ore prima, ha detto il MES non passerà se non cade il governo. Dopo 48 ore ha cambiato completamente idea, dopo la telefonata di Beppe Grillo, il suo capo, che gli ha detto, beh, non devi essere così duro, devi ammorbidire i toni, ricordati che il tuo unico vero amico è lo zinga del Partito Democratico. E così lui ha obbedito agli ordini. Perché è Beppe Grillo che lo lascia lì, gli ha confermato, tu sei insostituibile, tu lavori 25 ore al giorno, però devi rifare un contratto di governo col PD e devi guardare a sinistra. Quindi io ti lascio lì come capo politico, ma tu devi fare praticamente quello che dico io. E lui esegue per non perdere il posto di lavoro da 20.000 euro al mese. Noi avevamo stipulato un contratto con voi nel giugno 2018. Vada a rileggersi cosa avevamo scritto sul MES. Ribatte Ettore Liccheri dei 5 Stelle. Avevamo concordato la riforma del MES nella piena consapevolezza che il MES non si può cancellare. Ovvio che si può cancellare. È un trattato internazionale tra i paesi che adottano come moneta l'euro. Non si può cancellare, ma si può uscire. Bisogna dare disdetta. Adesso non so esattamente nel trattato se la disdetta va data con sei mesi d'anticipo, con un anno d'anticipo, ma si può assolutamente uscire dal trattato come da qualsiasi trattato internazionale. Questo probabilmente il senatore Ettore Liccheri non lo sa. Glielo ricordo io. Dalla maggioranza minimizzano, Salvini si è tanto impegnato, anche tentando di spaccare il gruppo 5 Stelle, ma la spallata infine non gli è riuscita, sostiene il capogruppo PD, Andrea Marcucci, e i 5 Stelle già nel pomeriggio alla Camera si erano affrettati a ricordare come dei 14 voti grillini che sono mancati al governo, 12 erano assenti giustificati. Ma la spaccatura dei 5 Stelle è netta e al Senato sono quattro i pentastellati che si sono dichiarati contrari al MES. Certo, pesa e come la fronda all'interno del Movimento 5 Stelle. Gianluigi Paragone, Stefano Lucidi, Francesco Urraro e Ugo Grassi. Il primo è da sempre critico nei confronti dei vertici grillini, ma ha assicurato per l'ennesima volta che non abbandonerà la casacca. Gli altri tre invece sembrano sempre più vicini al centro-destra. In base ai tabulati, tra loro Grassi ha votato sì alla risoluzione di Forza Italia e a quella della Lega, approvata anche da Urraro, mentre si sono astenuti Paragone e Lucidi. Intanto Monti dice che sul MES il dibattito è surreale e controproducente. Il senatore interviene dopo le comunicazioni del Premier sul Fondo Salva Stati. Dice, dobbiamo criticare l'Unione Europea dove lo merita davvero, non sul MES. E anche qui Monti non dice realmente il pericolo di questo MES e non si capisce perché, come dice Matteo Salvini, sono degli ottusi che vogliono comunque dare ragione all'Europa. Li ha chiamati esattamente euroottusi. E non c'è miglior definizione di questa, credo. E Monti, ex Presidente del Consiglio, dice, non dobbiamo esitare a criticare anche duramente l'Unione Europea, ma è meglio farlo laddove lo merita e quando le critiche hanno un senso, altrimenti il dibattito si trasforma in una lite controproducente per il nostro Paese. Per esempio, si sarebbero potute sollevare critiche più inclusive e incisive sul quadro finanziario pluriannale e qui Monti chiama in causa il Premier Conte. Lei, Presidente, è stato critico sul quadro, ma io credo si possa essere anche più duri, ha detto il senatore. Meglio, infatti, attaccare l'Europa su temi come questo piuttosto che su argomenti surreali e quasi di fantasia come il MES. Poi Monti promuove le comunicazioni pragmatiche e coerenti che ridimensionano il dibattito esistente del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Senato. E poi sul finale del suo intervento al Senato Monti, ex Premier, ragiona e dice preoccupazioni che ispirano anche i partiti cosiddetti sovranisti dall'immigrazione massiccia al terrorismo che possono essere risolte solo sul piano europeo. Dunque qui si apre uno spazio per il Governo per mettere a punto proposte persuasive. Io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita e nella community del canale potete trovare tanti sondaggi a cui partecipare e commentare. Siamo anche su Facebook se vi risulta più semplice e lì ci sono nella pagina Tele Italia Notizie tutti i video presenti su YouTube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro una buona giornata arrivederci al prossimo video